Senti, parlavamo prima di linguaggi, te scrivi anche, dopo giri quello che scrivi, come si fa ad avere un linguaggio o comunque una visione del videomaking d'inchiasta? Allora, io devo dire che questa cosa qui l'ho imparata molto alle Iene, nel senso che la mia vera scuola poi è stata lì, perché ovviamente sono entrato in contatto con dei professionisti che facevano questo da anni, mi hanno consigliato e mi hanno fatto capire quali sono i punti cardine poi di un lavoro di inchiesta, di reportage. Nel linguaggio, cioè nel comunicare visivamente un lavoro di questo tipo, tutto quello che dicevamo prima, quindi l'autenticità dell'immagine, ho capito che vale molto di più di tutto il resto, nel senso che l'autenticità dell'immagine diventa contenuto stesso, cioè se in quel momento, se tu riesci in quel momento a documentare quello che sta accadendo, non importa se lo stai documentando con l'esposizione giusta, col fuoco perfetto, con l'ottica migliore per restituire quello stato emotivo, Anzi. Esatto, anzi, perché il valore di quella ripresa è l'essere nel momento in cui accade. Questa cosa qui, come dicevi appunto Fabio, in realtà poi nel lavoro di scrittura, di autore, la puoi utilizzare per truffare, ovviamente, nel senso che in un racconto poi di inchiesta, di reportage, senza ovviamente dire cavolate, però può succedere che alcune cose invece le devi rifare, che non sono proprio venute, e ovviamente devi conoscere bene i tuoi strumenti, e se il rifacimento lo fai, che puzza di rifacimento, è allora non stai facendo bene il tuo lavoro, no? Quindi, sicuramente, prima cosa autenticità, e restituendola con questo tipo di linguaggio. Dal punto di vista di scrittura, la semplicità, cioè se tu devi comunque raccontare un evento, il tuo obiettivo primario è che venga capito da tutti, e che venga capito subito da tutti. Quindi deve essere semplice, immediato, senza cercare paroloni, senza cercare perifrasi, senza... devi comunicare una cosa semplice, come se la stessi spiegando ad un bambino, perché tanto le cose dette semplici arrivano a tutti, arrivano all'intellettualoide, ma arrivano anche al ragazzino che invece non può studiare, e siccome il nostro obiettivo è quello di comunicare, non possiamo a priori dire voglio comunicare solo con il plurilaureato. Assolutamente. Senti, visto che abbiamo anche dei ragazzi alle prime armi qua nel nostro gruppo, ci spieghi un po' il processo con cui magari ti confronti anche con Maesano, prima di andare a generare una cosa, dopo che l'hai scritto? Certo. Allora, la cosa forse più importante che ho... Come nasce una puntata? Ecco, generalizzando la domanda. Allora, intanto, le puntate di Piacere Maesano, che è questo programma che sto facendo con Marco Maesano, nascono da un confronto tra me e lui su nostre curiosità. Cioè, io e lui ci chiediamo una cosa o ci interessiamo a un tema che è particolarmente caldo perché è attuale o particolarmente sconosciuto e iniziamo a parlare di quella cosa, cerchiamo articoli, leggiamo cose, iniziamo a informarci con già un'attenzione per vedere se quello che possiamo andare a raccontare lo possiamo raccontare in una chiave diversa, che non sia soltanto il riportare la notizia. Quello che ho imparato di... insomma, in questi anni, facendo l'autore, però l'autore ha contatto con un inviato, perché ovviamente è molto diverso lavorare con un inviato o lavorare da soli. Ho fatto anche dei documentari da soli senza inviato, ed è molto diverso, perché ovviamente lì non hai un volto, una persona, una voce, un accento che deve comunicare quella cosa lì e essendo tuo autore, essendo dietro a quel volto, a quell'accento, a quel modo di relazionarsi con le persone, devi riuscire a capire come quella persona direbbe quella cosa. O comunque fare un passo indietro e dialogare con quella persona, col conduttore e dire guarda, secondo me dobbiamo dire questa cosa come la diresti tu con le tue parole. Quindi anche lì le puntate, gli episodi nascono sempre da un confronto, non c'è mai una separazione netta di ruoli, non c'è mai il io sono l'autore, adesso citi queste parole a memoria, perché verrebbe anche lì una cosa falsa. In più, ovviamente dal confronto, quando lavori comunque con delle persone di cui hai stimo, che il confronto è sempre arricchente, perché ovviamente quello che vedo io magari non lo vedi tu e quello che vedi tu non lo vedo io, e quindi potersi confrontare dà la possibilità al prodotto di venire fuori al meglio. Certo. Un'ultima cosa, dopo ti lascio ai ragazzi, visto che comunque trattate di attualità, vi informate e dopo andate velocemente a girare questa cosa. La scrittura riesce a scrivere una cosa che dopo riesce a realizzare facilmente, o ci avete difficoltà dato che sono situazioni reali, non sai mai quello che può succedere. Non so se mi sono spiegato. Sì, 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 ho capito perfettamente. Allora, guarda, ti dico, in questo approccio lavorativo la scrittura arriva sempre dopo. Cioè, noi partiamo con un'idea, ok? Un'altra visione, magari. Una visione, esatto. Magari abbiamo già in testa uno scheletro di quello che può essere, ma quando arriviamo lì può capitare, e capita molto spesso, di trovarsi una realtà diversa da quella che ti aspettavi. e quindi dover, ovviamente, rivedere tutto quello che avevi in testa, perché sarebbe un errore grave quello invece di non voler vedere la realtà e continuare a raccontare quello che vuoi tu. Ovviamente non sarebbe corretto. E quindi la scrittura arriva sempre dopo. Mi parlavo prima, scusami se ti ho interrotto. Esatto, no, no, ma certo. È estremo problem solving, secondo me. Esattamente. E la scrittura, in realtà, in questo tipo di lavoro, arriva sempre dopo. Arriva in sala di montaggio. Arriva quando guardiamo il girato, decidiamo quali sono le cose che ci servono per poter raccontare al meglio la storia che vogliamo raccontare. E lì la cucciamo tutta insieme con la narrazione. Quindi non partiamo mai con un canovaccio, cioè con uno script già fatto di che cosa dobbiamo chiedere, cosa dobbiamo vedere e cosa no. Insomma, in realtà, questo purtroppo porta via tantissimo tempo. Nel senso che, ovviamente, se tu vai con uno storyboard già bello fatto, quando torni devi soltanto realizzarlo, ci metti un attimo. Invece, se tu vai e ritorni e poi devi elaborare tutto quello che hai fatto e dargli un senso, ci metti molto più tempo. E da qui le notti insonni a lavorare. Divengono idee in loco. Sì, sì, sì. Assolutamente, quasi sempre. Quasi sempre proprio per questo tipo di... per questo meccanismo di narrazione. Nel senso che l'approccio con cui andiamo lì, ed è, credo, l'approccio più bello e più giusto, è andare lì con la curiosità di scoprire qualcosa di nuovo. E ovviamente se tu ti approcci ad una cosa con curiosità, lì vedi mille altre cose che non ti aspettavi e quindi prendi mille altre direzioni che non prevedevi. E ti dirò di più. Gli episodi più belli che abbiamo fatto, li abbiamo fatti su cose che non avevamo assolutamente previsto, cose che non contavamo neanche. Perché? Perché sono successe lì e poi proprio perché sono successe, sono reali. grazie. 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 Grazie.